Allora, ci chiudiamo sopra. Stiamo salendo sul campanile dell'ingornata. Ce la fai? Sì, sì, ecco. Attende di una mano, eh. Mamma mia. Hai fatto? Eh? Sì. Oh, che belle campanile. È pesante? Eh, è un po'. Oh, guarda che bella. Allora, guarda un'altra volta ci sgraziate tutti. Eh, va be', ma questo è voto. Allora, abbiamo la campanile grande. Eh. Perché era voto? Voto, mi so. Un po' di grande. Un po' di grande. Un po' di grande. Un po' di grande. Non è vero. Un po' questa è la seconda. Questa, allora là c'è scritto qualcosa, non dovendo, mi ricordo, dalla creazione della parrocchia di quella bellissima in coronata. Questa è la più piccolina. Adesso io, tu non ce la fai, devo, devi richiudere, o come faccio? Sì, no, faccio io, faccio io richiudere. Ma ci sta la maniglia. Sì, eccola qua, l'hai. Che potevi passare. Ah, sì. Ci fai? Aspetta. Aspetta un attimo. Qui abbiamo la terza, che è i maritelli, però sono tutte girate, secondo me, peccato. Perché volevo vedere l'anno. Questo è il motore. E questo è il suono. Qui abbiamo il martello. Questa è la campana. Sentiamo ancora le campane di Machiagodano suonare a festa perché c'è un battesimo. si vedono anche che suonano a distesa. e della campana. Allora, veniamo alle elettrificazioni. Questa è un montore. Vedete, la cadenza è più ben grassata. Il martello magnetico montato molto probabilmente da Padullo, dalla Cimolise, perché usava prima questi martelli, vedete anche sulla mezz'anno, mentre sulla piccola è canonico perché poi hanno cominciato a riutilizzare questi qua. Però l'anno, purtroppo, non si vede, ma è già la miseria. Manco da fuori si veda, ma si vede, ma è peccato.